ehi la ciurma io sono azs e benvenuti in questo piccolo video per the bye che è stata un po la ludonarra con the hitsense non ho avuto tempo di mostrare nulla ma inizierò oggi a far vedere un pochettino di demo e alcune recensioni man mano che riuscirò a trovare il tempo per fare tutto se riusciremo a far tutto e ci troviamo con do not buy this game e andiamo a provare la demo ciao ciao si sono io sono un giocatore dimmi mi ricordo molto di stanley parable però eh si effettivamente si molto molto stanley parable ok dai per ora non è che mi sta convincendo molto anche se Sì, c'è chi stanno parlando di me, ho postato una volta. Vedi, potremmo fare questo per giorni. Ho, 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 ho un po' di teleporti, quindi continui a continuare. O non, o non, sai cosa? È un poverso di tuo tempo. Potremmo solo parli di farlo. Non mi sembra molto ispirato per il momento. Ok, aveva finito il teleport. Non voglio usare il mio card Trump. No, non si può uscire. Oh! 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 Oddio, siamo super piccoli. Ma abbiamo tutte le scale per arrivare sul volo. Sì. Mi sa che l'unica cosa che possiamo fare è fare quello che lui ci dice di non fare. E non ho altro che posso fare in realtà, caro mio. Ok. Oh, ok. Per iniziare. Quindi, potremmo potresti darmi, tipo, tre chance per provincerti, solo per lasciare il tutto il punto di pressione, sai? e... 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 Ok. Ah, c'è una porta, dai, siamo arrivati. C'è una luce verde. C'è una porta. C'è una porta. Ah, guarda. Un pulsante. Oh, fico. It's like clicker game. Probably the best button in the entire world, you agree? who needs that other useless button? When you can stay here and push until you're a million ares. Yes, C'è proprio think. No, I'm not. Oh, ah. E' nel gioco No, non faccio nessuna transazione Cosa? Vi cerco per sicuramente... Ok, grazie per lasciarmi sapere Allora, faccio... Faccio questo qui Eh? Eh, sai cosa? Penso che c'era alcun tipo di mix-up E sembra che l'argento che hai è venuto proprio fuori da mio Lo sto impoverendo Cosa? 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 Ok, ok Io aprivo la porta per te Allora, andiamo fuori da questa sala E tu non ero la persona che era tipo Ehi, andiamo al big red button Non era la tua idea? Va bene No, dai Ancora 50 Vedo dove sta andando Sai cosa? Non mi piace Non è che devi sapere così tanti soldi, eh? Siamo gentili Siamo gentili No, no No, no Ah no Dai, sei stati gentili Ok? No, no No, è abbastanza soddisfacente Dai No, è abbastanza soddisfacente Tipo Un gioco, dai Sono qua per quello Teoricamente Dai Cioè noi Teoricamente siamo Per giocare Questo è quello che hai stato aspettato Non è? Ora puoi giocare un gioco L'ho fatto per te A prestare Un blattino Questo è sicuramente Il migliore del mondo Ma andiamo Cioè 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 Di sempre Ma no Ma il gioco più triste è di sempre Ma no Ma il gioco più triste è di sempre Ma non hai creato un gioco Hai messo due quadrati in croce che si muovono Bello Dai abbiamo così finito, eh? Ok Ok E mo? Sembra 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 Ma con quattro ossessi sei con i gioco Pensavo che Almeno sarei buoni Allora E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero Però l'altro quando arriva in fondo Rimbalza un minimo Magari si sta avvicinando Mi dà l'impressione che si avvicina un po' Mi sembra che si stia avvicinando un po' eh Vediamo se riusciamo a prenderlo adesso No Non ancora Ma quasi Stavo guadagnando qualcosina Però si avvicina Quando arriva l'aria rimbalza leggermente No Avevo un'impressione No, è più vicino, eh? L'avevo visto giusto? Eh? Visto? Svi che stai avvicinando sempre a te E adesso? Sì E' vero Non si perdono, o? No Un altro livello quindi, la camera rossa? Se così alla fine mi sa Se così al bottone rosso Ok I will try. This time, with the button of secrets. Oh Ah Riveli tutti i segreti esclusi nell'universo E' quello che ho avuto per sacrificare E volevo mettere le mie mani Ma ora è il vostro Dalla un po' Io ho creato un botto Tutti i segreti dell'universo Tutti i segreti E la prima cosa E' qualcosa per me Siamo arrivati da quella C'era un po' C'era un po' E... Aspetta Non ho bisogno di spiegare a te E perché è questo per me di nuovo? Questa cosa è... Questa cosa è... Questa cosa è... La prima cosa del creatore Era un cartone... Di un coniglio Era un coniglio di cartoni... Di cartoni... Di cartoni... Di cartoni mati Beh... Questo... Questo potrebbe essere per chiunque Ma... Cioè... Sto preoccupato che la gente Non apprezzi le cose che faccio per loro Stavo mentendo solo io Sono il creatore E 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 io non ho chiesto di venire E tutto ciò che ho cercato di fare Questo tutto il tempo E' di proteggere Dio 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 Ma perché ha paura Questo buttolo rosso? Ma perché ha paura E tu sarai riuscire quando mi prendi E riveli uno dei tuoi segreti? Ah... Ah... Dobbiamo sceglierne uno? Ehm... 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 Cosa 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 Ehm... Cosa È Ah Ma posso andare altrove? Non so se posso... adesso mi sento in colpa però Posso... posso andarmene? Eh, mi sa... Mi sa di no Eh no Non c'è più l'uscita da dove siamo entrati C'è l'entrata da dove siamo... Si La porta da cui siamo entrati insomma Allora, andiamo Ma c'è... Fingi in basso Ma despaula quella roba? Ho continuato ad accumulare pezzi su pezzi su pezzi Ma... Ma... Le... Non ci vedremo mai più Oh, guarda il bel botone rosso che è grande adesso Eh beh, non posso andarmene? Francesca? Ah... Sono onorato A pensare che puoi considerare di chiudere il gioco dopo tutto questo sforzo Qualsiasi cosa scegli? Quindi... Ok, va bene, grazie Le opzioni cosa c'è? No, vabbè, sono delle opzioni... Non c'è l'italiano comunque E... Proviamo... Proviamo a vedere il bottone Chiudere la demo così senza vedere cos'è il bottone Non c'è l'italiano Oddio No, è una bella idea Stop saying that No, no, no No, 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 no No, 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 no Perché sta succedendo? Non credo che... No 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 Scusate il gioco Scusate il gioco No No C'è lo stiamo costringendo a fare il gioco adesso perché abbiamo premuto il pulsante Allora, cosa significa... E' che in realtà hai bisogno di fare questo Ti hai solo bisogno di lavorare Ti hai solo bisogno di lavorare nel gioco E tu sei... ... be... 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 Che paura! Scusate, devo andare. Ricordi che non fai niente che vuoi. Credo che già avessi fatto. Ho detto che non ho mai ascoltato mai una volta. Che tenere! Io spero che tu sarai venire. Oh! Beh, è simpatico! Simpatica! Credits! Ok! King Blade! Bene! Questo era Do Not Buy This Game. Ancora non è uscito. Potete provare la demo voi stessi. Vedere se ci sono degli altri finali o delle altre situazioni possibili da triggerare. So che ci sono delle linee di testo che non ho scoperto, per esempio, in questa run. E nulla. Vai mettere il wishlist su Steam. Aggiungere la lista dei desideri su Steam. Io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo nel prossimo video della serie qua sul The Buy o in generale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!